Oltre 3.000 visitatori e 200 stand attivi in rappresentanza di 16 diverse nazionalità, questi alcuni dei numeri di Devozio, l'Esposizione Internazionale di Prodotti e Servizi per il Mondo Religioso, giunta alla terza edizione e svoltasi dal 19 al 21 giugno scorso nei padiglioni di Bologna Fiere. Paramenti e oggetti sacri, gadget, icone, arredo liturgico, impianti di riscaldamento per chiese e ambienti ecclesiastici sono state solo alcune delle proposte portate a Devozio 2022, quest'anno arricchito anche da quattro mostre dedicate al Codex Purpureus Roxanensis, la Cena di Emmaus, all'Ambone e alla Dalmatica e che hanno ricevuto anche la visita del Cardinale Matteo Zuppi. Diversi anche i convegni dedicati ai cinque sensi nella liturgia che hanno accompagnato la tre giorni con la partecipazione di diversi relatori.